ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai farmaci veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il farmaco veterinario rileksine appetibile a cosa serve rileksine appetibile a un medicinale veterinario a base del principio attivo cefalexina monoidrata appartenente alla categoria degli antibatterici cefalosporinici e nello specifico cefalosporine di prima generazione è commercializzato in italia dall'azienda birbach srl rileksine appetibile può essere prescritto con ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile informazioni commerciali sulla prescrizione titolare birbach concessionario birbach srl ricetta rrv ricetta medico veterinaria in copia unica ripetibile principio attivo cefalexina monoidrata gruppo terapeutico antibatterici cefalosporinici forma farmaceutica compressa confezioni rileksine appetibile 300 mg 140 compresse rileksine appetibile 300 mg 2 blister da 7 compresse rileksine appetibile 600 mg 140 compresse rileksine appetibile 600 mg 2 blister da 7 compresse rileksine appetibile 75 mg 140 compresse rileksine appetibile 75 mg 2 blister da 7 compresse principio attivo rileksine appetibile 75 mg ogni compresse da 180 mg contiene cefalesina 75 mg pari a 78,88 mg di cefalesina monoidrato rilexine appetibile 300 mg ogni compresse da 720 mg contiene cefalesina 300 mg pari a 315,52 mg di cefalesina monoidrato rilexine appetibile 600 mg ogni compresse da 1440 mg contiene cefalesina 600 mg pari a 631 1,04 mg di cefalesina monoidrato indicazioni trattamento delle infezioni causate da batteri sensibili alla cefalesina compreso staphylococcus spp e streptococcus spp tra i batteri gram positivi ed escherichia coli clebsiella pneumonia pasteurella spp e proteus mirabilis 3 i batteri gram negativi cani principali indicazioni infezioni del tessuto cutaneo piodermiti superficiali e profonde dermatiti infettive infezioni del tratto urinario nefriti cistiti infezioni respiratorie infezioni del tessuto osseo gatti principali indicazioni trattamento delle infezioni di cute e sottocute ferite ed ascessi causate da batteri sensibili alla cefalesina infezioni del tessuto cutaneo piodermiti superficiali e profonde dermatiti infettive infezioni del tratto urinario nefriti cistiti infezioni respiratorie infezioni del tessuto osseo controindicazioni ipersensibilità alle cefalosporine insufficienza renale cronica non somministrare a conigli cavie criceti gerbili e piccoli eroditori in genere posologia via orale il prodotto ha destinato ai cani e ai gatti e viene somministrato facilmente per via orale in quanto contiene eccipienti che lo rendono particolarmente appetibile la posologia di 30 mg barra kg di peso corporeo al giorno da suddividere in due somministrazioni infezioni acute da 5 a 7 giorni infezioni croniche in particolare piodermiti e cistiti croniche fino a 30 giorni rilexine appetibile 75 mg 1 compressa mattina e sera ogni 5 kg di peso rilexine appetibile 300 mg 1 compressa mattina e sera ogni 20 kg di peso rilexine appetibile 600 mg 1 compressa mattina e sera ogni 40 kg di peso avvertenze in animali effetti da insufficienza renale o ipatica la posologia deve essere valutata con cura se possibile l'utilizzo del prodotto dovrebbe essere basato su test di sensibilità un utilizzo di tali prodotti diverso dalle istruzioni fornite nel sp che può condurre ad un aumento della prevalenza dei batteri resistenti alle cefalosporine e allo stesso tempo ridurre l'efficacia del trattamento con altri antimicrobici a causa della resistenza crociata fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato